Chi era Nedo Pedisino? Nedo Pedisino è stato un cantante nuorese, un grande cantante nuorese. Io penso che senza ombra di smentita si può ritenere la più bella voce che nuoro abbia espresso nel passato. Ha avuto una carriera breve dal punto di vista di cantante lirico, comunque ha lasciato qualche testimonianza sonora, perché il grosso della sua carriera l'ha fatto come cantante nel collo della Cappella Sistina. In queste tracce possiamo scrittire adesso qualche accenno di un'aria famosa, la romanza Cielo e Mar, tratta dalla Gioconda di Amilcare Pompino. La romanza Cielo e Mar, tratta dalla Gioconda di Amilcare Pompino. per le documentazioni, per un concorso che Nedo Pedisino dovete fare per essere ammesso al collo della Rai. Il cantante aveva circa 25 anni. Nonostante l'effetto dell'incisione si possono notare le qualità non indifferenti che avevamo. Questo cantante soprattutto nella facilità di emissione e nella liquidezza degli appunti. La romanza Cielo e Mar, tratta dalla Gioconda di Amilcare Pompino. La romanza Cielo e Mar, tratta dalla Gioconda di Amilcare Pompino. Grazie.